ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo piccolo video di l'oletta 5 channel molto ad muzzo non so dove mettere il telefono sembra la madonna di betlemme dove va bene e niente volevo semplicemente fare un'osservazione dire una cosa le rughe sono affascinanti io sono convinta che più avanti va la donna più diventa più bella più diventa più affascinante e che le incoglionite che si fanno le maschere facciali perché secondo me sono maschere non chirurgia sono delle deficienti perché non capiscono quando è bello invecchiare dicono oddio che sta dicendo secondo me è bello invecchiare perché il tuo volto cambia magari non è più giovane magari non è più liscio più morbido però ho quelle zampe di gallina qua le rughe per esempio a me che mi sono spuntate ora tipo dopo i 25-24 anni che prima in realtà non avevo ovviamente era una questione appunto di età vi posso dire che all'inizio non mi piaceva una manca a me poi però bisogna che stai conto che è tutto ok che fa parte della vita che tutto va bene va bene così quindi insomma e mi piace mi piace mi piacciono tanto perché si vede ancora di più il mio volto si vede il fatto che io comunque finalmente sono adulta sono cresciuta che non sono più quella di prima che le cose sono cambiate che sono diverse e che io tutti i giorni guardandomi allo specchio mi vedo diversa ogni giorno che passa sì perché è così raga è così e secondo me non c'è cosa più bella di poter rimanere semplicemente se stessi nel proprio corpo con le proprie rughe e dire va bene così non cambierei niente di me nel cervello nel fisico nell'anima nel corpo nulla proprio nulla perché credo che a ogni cosa ha un suo significato e un suo sé e le rughe sono affascinanti perché fanno donna vissuta e quindi non hai il volto bello liscio nuovo soprattutto nuovo ma ce l'hai già usurato dal tempo dalle piaghe dall'età insomma semplicemente però questo fa sì che le persone capiscono che tu sei grande sei finalmente adulta finalmente hai un senso nella società quando parli le persone ti ascoltano nessuno ti zittisce e dice ah zitta che tu sei una bambina o sei un adolescente o non vali niente più grande diventi più prendi popolarità nella società in generale e con le persone un conto che parla una ragazza di 10 anni 15 o 17 un conto che ne parla una di 27 o slash o poi quasi 30 è ben diverso le persone ti vedono come si rendono molto più da stimare rispetto a prima perché sanno che tu sei più grande di loro e quindi sei una persona adulta e soprattutto ti ascoltano magari stai sparando delle minchiate maturnali però sei più grande quindi c'è il suo il suo fascino e nulla ragazzi voglio soltanto fare questa piccola osservazione con voi tutti questi video li vedrete penso gennaio entro fine gennaio e nel frattempo girerò tantissimi altri video come sempre d'altronde perché un pochino secondo me youtube per me è anche un po' una specie di vediamo un po' quando sono invecchiata nel tempo ecco facendo dei video vari che comunque rimarranno sempre pubblici forever sul web io stessa posso guardarmi col tempo e dire guarda come ero giovane prima o quando ero imbecille prima e niente ciao